In studio Veronica Puglisi. Sono due tecnici rinviati a giudizio per la strage avvenuta in via Trilussa a Ravanusa l'11 dicembre del 2021 quando un'esclusione causò nove morti tra cui una donna che avrebbe dovuto partorire pochi giorni dopo. Lo ha deciso il gruppo del Tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino che ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Salvatore Vella. Si tratta di Guido Catalano, l'ingegnere di 77 anni e direttore tecnico della Siciliana Gas al momento della posa della condotta del metano nel luogo in cui avvenne l'esplosione nonché firmatario nel 1999 del collaudo tecnico-amministrativo. E Carmelo Burgarello, 88 anni, responsabile tecnico dell'Amica SRL, l'impresa incaricata dalla committente siciliana Gas di eseguire lavori di messa in posa della tubazione incriminata. Rigettata la richiesta della stessa procura di archiviare l'indagine a carico di 10 responsabili regionali e nazionali di Italgas iscritti per primi nel registro degli indagati, sono state disposte nuove ulteriori approfondite indagini con il termine ultimo di sei mesi. I familiari delle vittime, tra cui il figlio del professore Pietro Carmine, assistito dall'avvocato Luigi Termini, si erano posti alla chiusura del caso. Proprio il docente di filosofia, con la sua lettera di pensionamento con cui salutava i suoi studenti, aveva commosso l'intera nazione ed era stato citato persino dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno. Parliamo del duplice omicidio commesso nel 1992 nell'Agrigentino perché si è arrivati ad una svolta. Ci sono tre indagati. La procura scopre mandanti e sicario del delitto dei fratelli La Placa. Sembrerebbe risolto il duplice omicidio La Placa di San Biagio. Dopo 32 anni i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno eseguito numerose perquisizioni tra San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina e Comitini. Per concorso in omicidio sono indagate tre persone. Luigi Costanza, 77 anni, residente a Comitini, Carmela La Placa, 56 anni, residente a Santo Stefano di Quisquina e Rosalba La Placa, 67 anni, residente a San Biagio Platani. Le perquisizioni sono state disposte nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio di Salvatore Gaetano La Placa del 1992 ed è stato il procuratore aggiunto di Agrigento, già nominato procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, ad emettere i provvedimenti. Gli indagati hanno già nominato i loro avvocati. Ipotizzate anche le aggravanti della premeditazione per Carmela e Rosalba La Placa dell'aver agito contro due ascendenti, padre e nonno paterno, nonché quella di aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare per le vittime la difesa. Carmela e Rosalba La Placa, figlie di Gaetano La Placa per la procura di Agrigento, sarebbero state le mandanti del duplice omicidio di Salvatore e Gaetano La Placa. Luigi Costanza è invece indagato come esecutore materiale. Rompe il silenzio la famiglia Ottaviano. A parlare la zia di Giuseppe, il quarantenne ucciso a Scicli, Luisa Sgarlata, ha raccontato chi era Giuseppe, cos'è successo quel 12 maggio, quando la vita della loro famiglia è cambiata totalmente. Non solo ai nostri microfoni un grande messaggio di speranza. La famiglia di Giuseppe Ottaviano, il quarantenne trovato morto in casa in via Manenti a Scicli il 12 maggio, attende di conoscere la verità, un'attesa che dura da 20 giorni e che è stata caratterizzata dal silenzio. A parlare oggi è Luisa Sgarlata, sorella della madre del quarantenne. La zia di Peppe, accompagnata dall'avvocato Barbara Arena, si è aperta ai nostri microfoni. Lo ha fatto a Donna Lucata, a lungomare, perché nella vita di Peppe la natura ha avuto una forte valenza. Ai nostri microfoni il racconto di quel maledetto 12 maggio. Ho visto tutto il resto, non ho visto lui perché me lo hanno impedito. Mi rammaricavo che qualcuno della famiglia non lo vedesse. Siccome c'era anche mio figlio il grande qui con me e l'ha visto lui, allora mi sono pacificata. E poi l'abbiamo visto bello, sereno. Ne parlavamo poco fa con mia sorella, composto nella sua dimensione ormai da non vivo. Ed era il Giuseppe nostro. La famiglia ai nostri microfoni ha raccontato come ha vissuto questi 20 giorni e ha lasciato anche un fortissimo messaggio di speranza, un grande insegnamento. 20 giorni di domande, 20 giorni di attese. Che idea vi siete fatti in questi 20 giorni di assoluto silenzio? E' vero che questo silenzio pesa, però capiamo la delicatezza del caso. E allora riguardo a questo noi umilmente lasciamo fare a chi ne sa più di noi e a chi deve andare avanti nelle indagini, perché tanto siamo affidati in ottime mani. Avete fiducia? Certo, come no. Se avesse davanti quella persona, cosa gli direbbe? Io non vado, noi non siamo vendicativi. Probabilmente dei consigli per la loro vita, per la sua vita. Probabilmente dei consigli che riterremmo giusti per la vita. Il perdono è una strada valutabile? No, il perdono per noi credenti è la base fondamentale sulla quale poi si costruisce la nostra fede. E quindi? E quindi si perdona. Ho scelto questa inquadratura del mare per dare respiro un pochino anche a lui e a noi di conseguenza. Gli ho voluto bene, gli abbiamo voluto bene e questo ricordo mi rincuora, me lo tengo stretto dentro perché è qualcosa che mi fa continuare. E ancora nessuna svolta sull'omicidio di Giuseppe Ottaviano. Silenzio degli inquirenti mentre si apprende da indiscrezioni che una donna ieri è stata ascoltata per ore. Ieri una donna è stata ascoltata per ore e l'enesima persona che ha ruotato attorno alla vita di Giuseppe Ottaviano continuano le indagini coordinate dalla procura di Ragusa sull'omicidio di Via Manente a Scicli. Ottaviano potrebbe aver avuto un legame con la donna ascoltata per ore ieri, forse un'amicizia, forse una frequentazione sporadica in ambienti frequentati da entrambi. Anche lei, come altre persone sentite nei giorni scorsi, sono state ascoltate per ricostruire le ultime ore di vita del quarantenne. Un'aggressione brutale ad Ottaviano con la rottura di quattro costole e la frattura della scatola cranica. Non è escluso che ad agire possono essere state più persone. In corso ha certamente i suoi campioni di DNA ripartati dai risti Messina nei giorni successivi all'omicidio. Dal comando dei carabinieri vige il più stretto riservo sulle indagini che si concentrano, si apprende da indiscrezioni sul ruolo di un gruppo circoscritto di persone attorno alla vita di Peppe Ottaviano. Un ragazzo buono e sensibile, così come lo descrive la famiglia e su cui il silenzio non potrà più durare a lungo. È stata operata questa mattina la bimba di tre anni che lo scorso 23 maggio è stata accoltellata dal padre Daniele Alba nella loro casa di Cianciana. I medici di chirurgia plastica dell'ospedale civico le hanno rimessa a posto la frattura provocata dai fendenti inferti con un coltello da cucina dal papà. Tra qualche mese dovrà essere nuovamente operata perché dovranno essere rimosse le placche collocate questa mattina. La prognosi resta riservata. Un palermitano di 22 anni, Tommaso Di Giacomo, è morto in un incidente stradale che si è verificato a Buseto Palizzolo lungo la SS 187. Il giovane alla guida di un'autovettura si è scontrato con un altro mezzo finendo la sua corsa contro un palo per estrarre il corpo senza vita dalle lamiere contorte. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Cambiamo adesso argomento. La Commissione europea ha approvato uno schema di aiuti di Stato da 2 miliardi per sostenere la ST Microelectronics nella costruzione e nella gestione di un impianto di produzione di chip. A Catania il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso proprio oggi ha visitato gli stabilimenti. La Commissione europea ha approvato uno schema di aiuti di Stato da 2 miliardi di euro dell'Italia per sostenere la ST Microelectronics nella costruzione e nella gestione di un impianto integrato di produzione di chip. per dispositivi di potenza al carburo di silicio a Catania. La misura evidenzia Bruxelles rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la sovranità digitale dell'Europa nelle tecnologie dei semiconduttori in linea con gli obiettivi fissati nel chips ex europeo. Il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso ha visitato oggi gli stabilimenti catanesi di ST Microelectronics accompagnato dall'amministratore delegato e presidente del gruppo. Sta sorgendo il polo più importante, più significativo e più competitivo dell'Europa nella microelettronica con ST Microelectronics e nella tecnologia green con Trisanne. Con questo investimento che si aggiunge a quelle annunciate nelle scorse settimane, la linea pilota dell'Unione Europea proprio qui a Catania sui materiali ad alta resistenza e l'investimento di Silicon Box nelle regioni del nord del nostro paese noi a fine anno, nel corso di questo 2024, raggiungeremo investimenti nella microelettronica pari ad oltre 10 miliardi di euro e avremo in Sicilia certamente almeno tre poli d'avanguardia, nella chimica green tra gelo e priolo, nell'industria produttiva a termini merese, nella microelettronica e la tecnologia green qui nell'Etnavalle. Nella sua valutazione Bruxelles ha riscontrato che gli aiuti pubblici hanno un effetto di incentivazione poiché in loro assenza il beneficiario non realizzerebbe l'investimento. La misura viene giudicata dalla squadra antitrust guidata da Margaret Vesteyer. È un investimento molto importante, combina soldi pubblici, quindi soldi dei contribuenti, e un investimento privato molto molto importante, che insieme permette di realizzare un investimento che è importante appunto per l'Europa. Ed è stata una giornata importante quella di ieri per l'ex Bluetech di Termini Merese. È stata sottoscritta la cessione del ramo d'azienda alla Pelligra Italia Holding SRL, società aggiudicatrice della gara con un'offerta di 8 milioni e mezzo di euro. È stato sottoscritto ieri il contratto di cessione dell'ex Bluetech di Termini Merese alla Pelligra Italia Holding SRL. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato informato dell'importante passaggio dai commissari straordinari dell'azienda. Il piano della Pelligra Holding Italia, società aggiudicatrice della gara con un'offerta di 8 milioni e mezzo, prevede l'assunzione di almeno 350 dipendenti attualmente in cassa integrazione e investimenti per la riqualificazione dell'area. E alla fine di marzo era stato lo stesso ministro Adolfo Urso ad autorizzare il perfezionamento dell'atto di cessione del ramo d'azienda alla Pelligra. La cessione della proprietà, spiegano dal Ministero con una nota, resta condizionata alla finalizzazione del pagamento dell'intera somma e all'autorizzazione delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali che avverrà nelle prossime settimane come da cronoprogramma. L'assegnazione, conclude il Mimit, si inserisce in un più ampio progetto di rilancio del polo industriale di Termini Merese. Lavoratori e sindacati sperano che questo sia l'ultimo atto di una vicenda annosa, anche perché per gli operai si è ormai giunti all'ultima finestra proponibile per la cassa integrazione, più volte rinnovata. Il 2 maggio scorso, come si ricorderà, l'ennesimo intoppo, con un ricorso al Tar del Lazio da parte di due società interessate a rilevare il ramo d'azienda contro il Ministero delle Imprese, la Blutec e la Pelligra Italia Holding SRL. La società Pelligra Italia interviene sulla sottoscrizione del contratto di cessione del ramo d'azienda che scrive rappresenta un ulteriore passo in avanti per il futuro di Termini Merese. Rispettiamo gli impegni presi con le istituzioni centrali, locali e le organizzazioni sindacali per la realizzazione in Sicilia di un polo manufatturiero, logistica, industriale, green e innovativo. Il piano è in grado di valorizzare l'area di Termini Merese con un importante investimento che offrirà opportunità di lavoro per le future generazioni. Pelligra Italia ribadisce di essere pronta ad un confronto proficuo con le istituzioni. L'obiettivo dopo 50 anni di chiacchiere di promesse non mantenute con i siciliani, i calabresi e gli italiani è quello di aprire i cantieri del ponte sullo stretto entro l'anno. A dirlo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che a Messina, dalla nave d'attilo della Guardia Costiera, ha presentato il progetto infrastrutturale in Sicilia. Ieri è stata bocciata per la seconda volta la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Favignana, Francesco Forgione. Parla di una delle pagine più vergognose della storia politica e istituzionale dell'Egadi riferendosi alla giornata di ieri il sindaco di Favignana, Francesco Forgione. La mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti, come lui stesso ha scritto in una nota nero su bianco, non ha ottenuto la maggioranza necessaria ed è stata bocciata. Per raggiungere questo obiettivo i consiglieri firmatari hanno tentato di far decadere pretestuosamente la collega Giuseppina Salerno, contraria alla mozione. Provvedimento che è stato bocciato dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo con ben due decisioni. Nonostante mancassere numeri per l'approvazione e l'esito della votazione fosse ampiamente prevedibile, i firmatari della mozione hanno scelto ugualmente di discuterla in aula, utilizzando la mozione come strumento di propaganda, aizzando all'odio agli insulti, ha commentato il primo cittadino. Era previsto che non si raggiungesse il quorum necessario, ma i firmatari della mozione hanno preferito utilizzare il Consiglio Comunale come strumento di propaganda, aizzando all'odio agli insulti che purtroppo non sono stati frenati nella gestione del Consiglio Comunale medesimo. L'ulteriore indignazione per il degrado e la deriva dei toni e dei linguaggi utilizzati nella seduta con commenti omofobi lascia tanta amarezza, ha commentato il Sindaco, ma noi non ci fermiamo e pensiamo al futuro delle EGADI con gli investimenti già in corso di realizzazione e gli altri in arrivo. E questa è la nostra responsabilità, affrontare la stagione estiva per rendere accoglienti le nostre isole, e lo stiamo già facendo, garantire servizi essenziali per i cittadini, per i visitatori e per gli operatori economici e assicurare una certezza di futuro, di trasparenza e di legalità in questo momento al nostro arcipelago. Archiviava materiale pedopornografico sul cloud, arrestato un 22enne catanese. L'indagine della Polizia Postale Tenea è nata da un'inchiesta dei colleghi di Verona. Nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura Distrettuale di Catania, la Polizia ha arrestato in flagranza di reato un 22enne catanese, trovato in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. Durante una perquisizione informatica, gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania hanno rinvenuto una grande mole di immagini e video ritraenti minori, anche in tenera età, vittime di abusi sessuali. L'indagato archiviava il materiale illecito sia in alcuni dispositivi elettronici che in sistemi di cloud protetti da password. L'indagine ha preso avvio da un'attività di analisi su materiale informatico sequestrato nel corso di un'altra indagine della Polizia Postale di Verona sullo sfruttamento sessuale di minorenni. La Procura Distrettuale di Catania ha richiesto e ottenuto dal GIP la convalida dell'arresto per l'indagato. Il giudice delle indagini preliminari ha poi disposto per il 22enne gli arresti domiciliari. Recuperato un cadavere in prossimità della scogliera di Cava Dalica, i vigili del fuoco intervenuti hanno proceduto al recupero della salma che già era giunta a pochi metri dalla riva e dopo l'ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Dottor Santori è stato disposto il trasporto della salma nell'obitorio del cimitero di Scicli per poter procedere all'identificazione della vittima. Sul posto presenti il personale della Capitaneria di Porto di Pozzallo, la Polizia Locale di Scicli e i carabinieri. Il nucleo ambientale della Polizia Provinciale ha intensificato l'attività di vigilanza sull'intera area costiera con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle fumarole con un particolare riferimento alla fascia trasformata compresa tra Marina di Acate e Pantani Longarini in territorio espicese. Denunciate per reati ambientali, 11 titolari di aziende agricole e altri invece che avevano dismesso gli impianti serricoli ha cadastato i rifiuti, sono stati diffidati a non procedere all'abbandono o all'abbruciamento dei rifiuti. Si è parlato di agroalimentari e delle opportunità di investimento e di business nei rapporti tra la Tunisia e la Sicilia nel corso di un incontro che si è svolto a Catania alla Camera di Commercio. Un'occasione per incoraggiare la partnership e lo sviluppo economico tra i paesi del Mediterraneo l'obiettivo dell'incontro organizzato alla Camera di Commercio di Catania per parlare di agroalimentari, opportunità di investimento e business tra Tunisia e Sicilia generando nuove prospettive di crescita e favorire l'internazionalizzazione delle imprese con l'obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali e gli scambi produttivi tra le due regioni. Ci inseriamo ovviamente all'interno di quella che è l'idea che il governo italiano ha nel rapporto con l'Africa però diciamo che noi abbiamo un rapporto privilegiato con l'Africa Mediterranea, con la Tunisia, col Marocco e quel mondo che già è vicino alla Sicilia e che lavora con la Sicilia e che vogliamo adesso stimolare a riprendere una crescita. Uno dei primi eventi che fa seguito alla visita della Premier Giorgia Meloni in Tunisia a sottolineare l'intenso scambio e cooperazione tra i due paesi soprattutto in un settore fondamentale come l'agroalimentare che vede la Sicilia quale prima interlocutrice e partner alla luce anche del piano Mattei per l'Africa formalizzato nel novembre del 2023. Siamo qui per rafforzare le relazioni tra la Tunisia e l'Italia siamo qui in una giornata agroalimentare per rafforzare appunto le opportunità tra due paesi ci sono dei legami millenari tra i due paesi e siamo qui per offrire nuove opportunità per investitori e per rafforzare questa relazione tra i due paesi. All'evento hanno partecipato numerosi produttori dell'agroalimentare che hanno portato le loro testimonianze come aziende tunisine ed italiane per un lavoro sinergico svolto negli anni. Le relazioni tra i due paesi sono relazioni ottime e oggi più che mai ci sono grandi opportunità di investimento. Le aziende siciliane hanno una grande opportunità e anche quelle tunisine. Investire in Tunisia oggi è più semplice e avere partenariati con aziende tunisine è molto più semplice. L'informazione continua subito dopo una breve pausa pubblicitaria tra poco. Seconda ultima parte del nostro telegiornale l'edizione 2024 del World No Tobacco Day è stata dedicata ai giovani e ai rischi che corrono con il fumo. A Catania una tavola rotonda con protagonisti proprio giovani studenti e ricercatori. Proteggere i giovani dalle interferenze e l'industria del tabacco questo è il tema dell'edizione 2024 del World No Tobacco Day. E a Catania proprio ai giovani si è data voce grazie al COER il centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo all'Università di Catania fondato dal professore Riccardo Polosa che in collaborazione con l'IAF, la Lega Italiana Antifumo e alcune associazioni di studenti ha organizzato la prima tavola rotonda dedicata alla battaglia antifumo coordinata interamente da giovani studenti specializzanti e ricercatori che si sono contraddistinti per l'attenzione al tema. Da loro sono arrivati dati nuovi e proposte condivise con la comunità scientifica impegnata a consegnare un futuro smoke free. Se un tuo amico fuma come fai a convincerlo a smettere? Non è semplice, non è semplice intanto devo dire che negli ultimi anni si è passato dal fumare una sigaretta a combustione ad altri dispositivi. Questo ovviamente è meglio di niente ma non è la risoluzione del problema. Le alternative al fumo di sigaretta, la sigaretta a combustione esistono, sono validi ma non sono appunto la fine. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo finale che è quello appunto di, se possibile, rimuovere totalmente l'utilizzo di questi prodotti. Come rileva l'Organizzazione Mondiale della Sanità occorre attirare l'attenzione del mondo e dei suoi rappresentanti governativi sulle tattiche predatorie e l'industria del tabacco che prendono di mira i giovani per ottenere profitti per tutta la vita. Di informare in maniera sistematica tutti i giovani secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità affinché questi non diventano oggetto delle politiche predatorie dell'industria del tabacco e possono diventare dipendenti per tutta la vita di un prodotto che causerà dei danni irreparabili e molto gravi la loro salute. Etica e politica, utopia o realtà? Il tema della tavola rotonda che si è svolta ieri a Palermo nella cappella di Sant'Antonio Abate di Palazzo Steglio organizzata dal Civitan Club Panormitan ad aprire i lavori la Presidente Antonella che ha detto il club vuole essere una palestra di vero umanesimo per formare e informare, per un'etica di responsabilità e di servizio per il bene comune che non può e non deve essere ancella minore dei poteri legittimi quanto spirito veramente unificante tra i relatori procuratore generale della Corte di Cassazione il giudice della Corte Europea dei diritti dell'uomo Guido Corso Guido Loporto già sottosegretario e Presidente Merito dell'Ars e Pietro Puccio Sindaco di Capaci Si è concluso il progetto Isola Sicilia liceo musicale di Modica domani intanto uno speciale evento sull'iniziativa di ieri che ha coinvolto tanti artisti e alunni delle scuole la manifestazione che si è tenuta ieri al Teatro Garibaldi di Modica Si è concluso con l'Alexio Magistralis del docente dell'Università di Catania Giulio Scivoletto il progetto promosso dalle regioni siciliane a cui ha partecipato con ruolo da protagonista il liceo musicale di Modica appartenente all'Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Verga ieri l'evento teatrale con ospiti nazionali ed internazionali e il coinvolgimento di altri istituti oggi invece grazie all'apporto del professore Scivoletto i ragazzi hanno potuto approfondire la conoscenza della storia del patrimonio linguistico siciliano i siciliani possono andare oltre lo sfruttamento commerciale e ideologico del dialetto stereotipo e quindi oltre la Sicilia stereotipo il dialetto esiste da millenni perché ha convissuto liberamente con tutte le lingue che lo hanno affiancato nella storia quindi vivere questa libertà al di là dello stereotipo e al di fuori dello sfruttamento ideologico commerciale credo che sia la vera chiave per il mantenimento di questo patrimonio non come passato ma come un presente di ricchezza e di complessità è una marcia in più assolutamente sì gli studi neuroscientifici hanno largamente dimostrato che nel cervello c'è spazio per tutte le lingue che vogliamo soprattutto se da bambini quindi temere il dialetto è totalmente immotivato ed è una scelta ideologica che tradisce il nostro passato e peggiora le nostre intelligenze del futuro soddisfazione è stata espressa dall'istituto a coordinare i lavori è stata la docente referente del liceo musicale Loredana Vernuccio tutto è stato realizzato con il contributo della regione siciliana e precisamente dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale nell'articolazione del dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio siamo felici di aver potuto proprio promuovere la diffusione del nostro patrimonio immateriale immenso che è quello della cultura siciliana e con questo servizio è tutto MTG termina qui grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata su video mediterranei